Hashtag Fiu, ricordate? L'aveva postato Allegri dopo una partita vinta in sofferenza, glielo rubo, glielo rubo perché questa partita con l'Elas Verona è stata decisamente complicata, ho ancora un po' di ansia dentro di me e me la voglio portare dietro. E voi direte dov'è il post partita di Elas Verona Juventus? Ragazzi stasera vi porto direttamente le pagelle qui sul canale perché il post partita lo potete trovare sul numero 10, scaricate l'applicazione gratuitamente dal link che trovate in descrizione, il post partita è Elas Verona Juventus, serie in esclusiva per loro, qui invece siamo a raccontare le prestazioni dei singoli, poi se volete vedervi il post partita ve lo andate a vedere tranquillamente nella sezione media influencer di numero 10, completamente gratuita, link in descrizione. Andatevi a vedere il mio video di circa 6 minuti dove racconto le difficoltà della Juventus nel portare a casa questa vittoria e anche faccio una breve disamina su quelli che sono stati gli episodi arbitrali che secondo me saranno molto contestati in questi giorni dato che conosco un po' il modus operandi, no? E quindi vi dico la mia opinione lasciando da parte in realtà un discorso legato alla fede e vi dico come secondo me andavano lettere le decisioni arbitrali. Ma siamo qui per le pagelle, invece domani vi porterò l'analisi di Elas Verona Juventus, non vi porterò la live reaction perché c'è poco a cui reagire, c'è anche poco da analizzare in realtà, però proverò a fare del mio meglio perché sapete che i video un po' più tecnici sono il mio pane quotidiano, sono quello che preferisco e quindi tanto valutare le prestazioni dei singoli. Partendo dall'allenatore 5,5 Massimiliano Allegri perché è vero che portiamo a casa questi tre punti che secondo me non sono importanti, sono vitali, sono fondamentali. In una settimana in cui c'era l'infrasettimanale che ha regalato tante sorprese, tante squadre, i nostri contendenti hanno lasciato indietro i punti e spero che li possa lasciare indietro anche la Lazio appunto nella gara di questa sera col Monza. Però che fatica ragazzi, noi giochevamo contro l'ultima in classifica che non faceva punti da 65 giorni. L'ultima in classifica in assoluto e mai mi sarei immaginato di sudare sette camice per portare a casa questa partita con l'Elas Verona. Allora, gli ultimi 20 minuti sono stati per me una tortura incredibile perché sentivo veramente quest'ansia, quest'ansia nel cercare di portare a casa questa prestazione, questi tre punti. Un passo indietro probabilmente dal punto di vista appunto della prestazione rispetto al complessivo, non al primo tempo perché al primo tempo con l'Inter è stato avuto, ma al complessivo sia di PSG che di Inter. Ecco, il PSG avevamo perso, siccome è un passo indietro dal punto di vista proprio di quello che abbiamo messo in campo, una partita molto simile invece a quella con Lecce, risolta da una fiammata, da un episodio, da una giocata. Un passo in avanti invece verso il punto della fiducia che si deve ritrovare in queste partite qui perché queste partite sporche, brutte, giocate male, probabilmente dove non meriti nemmeno la vittoria, se le riesce a portare a casa dopo aver attraversato questo momento di difficoltà è una lettura interessante perché questa Juve questa partita non l'avrebbe portata a casa fino a un paio di mesi fa e vi dico proprio schietto come la penso, oggi mi importa portarla a casa come mi importa portarla a casa con la Lazio perché le ultime due dopo aver capito che questa Juventus ha dei problemi cronici ha fatto dei piccolissimi passi in avanti dal punto di vista delle prestazioni, non mi voglio sognare e meravigliare di stravolgere gli ultimi 180 minuti della prima parte di stagione perché sarebbe follia, perché ormai abbiamo capito che cos'è questa squadra, ormai sappiamo i punti forti, i punti deboli, cosa dovrebbe fare per migliorare, cosa dovrebbe lasciarli di fare, invece continuiamo a farla quindi queste cose ce le aspettiamo, però non mi aspettavo così tanta difficoltà, sono sincero, quindi quel mezzo punto in meno rispetto alla sufficienza da Allegri do proprio per questo perché oggi si è sofferto oltremisura, Severdi all'ultimo secondo quel tiro che finisce fuori dritto per dritto dopo quella sponda aerea di lasagna lo ficca in uno specchio della porta, non so come finisce, passatevi lì il rido perché è una puttanata il clean sheet dei servi anche oggi, tra virgolette, un clean sheet sì, dove riusciamo a mantenere la porta inviolata sono lasciato a parte il discorso dei servi che secondo me è veramente una cosa che fa ridere però un clean sheet forse oggi è anche un pochino immeritato così come con l'Inter perché le occasioni agli avversari abbiamo concesse e anche oggi mi sento di dire che siamo stati fortunati, poi qualche mese fa, un paio di settimane fa, un mesetto fa era difficile ritrovarsi qui a dire che siamo stati fortunati, quindi probabilmente la fortuna te la cerchi e te la costruisci da solo quando eravamo stati sfortunati magari qualche settimana fa era stato tutto differente adesso le cose stanno andando bene, i punti si portano a casa però tra queste Lecce ho visto due squadre e la Soverone Lecce veramente in serie difficoltà poi ieri sera Lecce per dire abbattuto l'Atalanta in serie difficoltà ma che potevano comunque farci lo scherzetto e in cui noi siamo stati veramente un po' troppo leggeri dove potevamo e forse dovevamo dare di più perché se vogliamo davvero uscire da questo momento di crisi dobbiamo ritrovare della sicurezza che va al di là della vittoria dobbiamo ritrovare anche un po' più di padronanza senza dover sempre aver paura anche dell'ultima in classifica in serie A perché poi il rischio di un altro Monza-Juventus secondo me è dietro l'angolo quindi questa è un po' la mia lettura, sono contento di averla vinta perché davvero questa sera mi andava bene anche una vittoria sporca ma questa non è una vittoria sporca ragazzi, questa è una vittoria lercia, lurida siamo andati veramente oltre lo sporco quindi quel mezzo punto in meno rispetto alla sufficienza perché l'allenatore della Juventus è tre punti contro la Sverona te li deve portare a casa è proprio perché stasera abbiamo rischiato anche troppo oltre il limite secondo me dell'umana sopportazione poi sono contentissimo di aver portato a casa questi tre punti per in sei perché comunque l'Ellas dei pericoli li ha creati poi domani andremo ad analizzarli insieme ma delle vere e proprie occasioni in cui è stato chiamato in causa al portiere magari così a caldo non me ne ricordo tanta imprecisione loro negli ultimi metri squadra che arrivava lì e poi c'è un'occasione clamorosa per dire nel primo tempo del numero 77 anzi è tirato in porta due volte nel primo tempo quel giocatore dell'Ellas una che gli dà Locatelli e quindi lo tiene in gioco viene fiscato fuori gioco ma meno male che sbaglia quel gol lì perché se prende lo specchio della porta andiamo sotto e poi non so che partita viene fuori quindi sei a Perin ma è paradossale in una partita in cui comunque l'Ellas secondo me un po' di presenza dalle nostre parti la messa senza mai riuscire a beccare o quasi mai lo specchio della porta sei a Bremer che si ridimensiona rispetto alla magica e magnifica partita che aveva fatto con l'Inter dove era stato veramente dominante cinque e mezzo a Bonucci invece perché lo dicevo mentre guardava la partita in live su Twitch a un certo punto mi è proprio uscito il cazzo se sei invecchiato Bonucci non invecchiato male lo vedo proprio vecchio lo vedo lento nelle reazioni lo vedo impacciato, goffo quindi la partita d'altro giorno con l'Inter senza Bonucci la partita di oggi con Bonucci sono due partite diverse non dico che sia questo il problema perché non è questo il problema o almeno non è solo questo il problema però Bonucci sta iniziando a fare una fatica ragazzi ma una fatica ragazzi e mi dispiace da Matti vederlo così impacciato così invecchiato davvero così invecchiato ma ormai credo che sia un dato di fatto quando c'è stata quella punizione da battere che si era procurato Fagioli sono andati Bonucci e Quadrado sul punto di battuta ho proprio pensato è ora di darci un taglio con il passato glorioso che abbiamo avuto è ora di fare un passo in avanti perché siamo ancora bloccati a giocatori che da almeno 7-10 anni portano avanti la baracca ma che in questo momento fanno un po' più fatica 6 mezzi invece a Danilo mi è piaciuto un certo punto ecco questa è stata una scelta di Allegri che non ho capito quello di spostarlo a centrocampo un certo punto con Kostic terzino con Quadrado terzino all'altra parte non l'ho capita però Danilo è spirito ragazzi è lotta è sacrificio è sudore è anima so che sono valori che a tanti non piacciono soprattutto gli amanti magari di un gioco un po' più spumeggiante io invece adoro questi valori e Danilo è un giocatore che mi è entrato dentro proprio nello spirito per quello che mi dimostra e lui nella lotta si esalta sempre non si tira mai indietro quindi secondo me il 6 e mezzo se lo merita pure oggi anche in una posizione non sua che ribadisco continuo a non capire perché venga impiegato a centrocampo quando secondo me si poteva optare per un'altra opzione mi piacerebbe poi sentire magari il post partita di Allegri anche questo a questo punto di vista questo spunto tattico 5 e mezzo a Quadrado che è un po' quello che vi dicevo prima cioè mi piange il cuore vedere questi giocatori invecchiati così forse nemmeno di botto perché non è vero non prendiamoci in giro sapevamo che che stava arrivando la fine neanche per loro ma secondo me adesso siamo letteralmente alla fine Quadrado in scadenza di contratto non credo nemmeno che verrà rinnovato adesso è stato privato anche della fascia di vicecapitano quindi boh credo che l'avventura di Quadrado sia davvero al termine poi io qua come sempre un asterisco piccolo ce lo metto Quadrado le sta giocando letteralmente tutte perché la Rosa è stata costruita per giocare non con la difesa 3 e con la difesa 3 è l'unico in grado di giocare sul largo destra come quinto di destra e quindi già è in difficoltà poi non lo faccia rifiatare oggi ha rifiatato per far entrare l'Alexandro ed l'Alexandro è stato espulso ne parleremo dopo sei meno Locatelli perché oggi tanti errorini secondo me di Locatelli ma soprattutto l'idea l'impressione che mi ha dato è stata quella del compitino ma che poi sto compitino si traduce nella voglia generale che ci mette la squadra oggi si era proprio vista una Juventus secondo me che cercava il massimo risultato quindi 3 punti col minimo sforzo proprio perché saprei che dall'altra parte c'era una squadra in difficoltà e quindi sarebbe poi venuta la vittoria in qualche modo però ragazzi bisogna fare un passo avanti oltre questo modo di pensare perché poi quando vai a affrontare il Napoli di turno che in questo momento ti sta dominando la Serie A ti serve ben altra prestazione ben altra voglia di portare a casa il risultato perché tante volte anche in questa stagione non abbiamo fatto bottino pieno proprio per questa supponenza e mi dispiace vedere che siamo arrivati a novembre e non ci siamo spostati di tanto da questa mentalità qua e stiamo continuando a ricercare il massimo risultato col minimo sforzo e questa Juve non può permetterselo siamo la migliore difesa del campionato è vero ma questa cosa secondo me non deve non deve illuderci perché siccome ci stiamo illudendo tanto anche solo guardando la classifica ok siamo terzi magari arriveremo quarti stasera perché la last vincerà col Monza come prevedibile ma vi invito veramente a non tirare questo sospiro di sollievo perché non e lo dicevo stamattina non siamo arrivati alla riva siamo ancora in alto mare siamo ancora in mezzo al mare e il primo passo per uscirne è staccarsi da questa voglia di fare semplicemente il compitino sei più invece a Fagioli che secondo me ha fatto una partita ok non ho capito perché è stato sostituito anche lui come per Danilo mi sento di dire che nella lotta lui ci va lui si esalta quella punizione che si procura quella brutta poi punizione calciata da quadrado è proprio spirito è proprio lotta è oggi meno appariscente rispetto a Lecce PSG e Inter però penso che sia anche abbastanza normale che non debba essere sempre solo Nicolo Fagioli a tirare la carretta di una squadra come la Juventus lui che ha il primo anno in Serie A con una maglia così pesante sei e mezzo da Rabiot che risolve la partita possiamo girarci intorno finché vogliamo ma l'assist è di Rabiot l'assist è di Rabiot è il movimento è di Rabiot con un bel movimento a tagliare va a fare il trequartista e poi serve quella palla a Ken bella palla servita da Rabiot con un bel movimento precedente e poi vabbè Ken la butta dentro però la palla arriva grazie a Rabiot che continua a metterci quantità e qualità in questa annata quindi assist non la risolve con un gol questa volta con un assist sulla trequarti un francese che fa assist alla Juventus beh di solito era Zidane adesso è Rabiot eh? contenti eh? 5 e mezzo Kostic sicuramente non la stessa partita che è stata con l'Inter sicuramente no un po' più scarico però ribadisco secondo me stasera è difficile valutare la prestazione da Juve perché è stata brutta è stata brutta e quindi anche i singoli poi le risentono perché stasera voti alti non le puoi dare cioè il voto più alto fino ad adesso appunto è di Rabiot e di Danilo che sbecca in 6 e mezzo non è stata entusiasmante è stata una partita sporca lurida l'ercia in cui l'hai sfangata e portata a casa a tre punti poi tutti ne risentono anche quelli che magari in questo momento avevano raggiunto uno stato di forma magari un po' più netto per forza di cose voto 6 a Milik che da raccordo fa da raccordo fa a quell'occasione al primo tempo ci sono state due occasioni per la Juve che sono occasionine piccoline piccoline che è il tiro giro di Locatelli il tiro giro di Milik poca forza poca precisione poca potenza poco tutto il 6 se lo becca perché comunque il suo lavoro da raccordo il suo lavoro di fatica all'interno di questa squadra lo fa però non brilla ma come potrebbe cioè non ci sono davvero le possibilità di far brillare gli attaccanti perché lo stesso Moise Ken che ha fatto una partita di sbattimento incredibile poi è una partita tecnicamente orribile perché tante palle la sbagliate ma per l'impegno per lo sbattimento per la voglia per la lotta c'è poco da dire queste cose ce le ha messe stasera Moise Ken anche perché la palla di davanti non arrivava l'unica tra virgoletto occasione buona ha fatto gol nonostante avesse tirato male perché aveva tirato veramente male come vi dicevo prima c'è la fortuna in questo momento c'è la fortuna della nostra come l'Inter che non fa gol l'altra sera come Verdi che non fa gol all'ultimo noi facciamo un tiro in porta becchia la deviazione e facciamo gol perché stasera oltre a questo faccio un po' fatica poi magari domani a freddo sull'analisi sarò un po' più non lo so un po' più lucido o confermerò questa linea però questo è la Suverona Juve l'ho trovato onestamente oggettivamente brutto ma da una parte dall'altra però ribadisco gli altri sono ultimi in classifica in Serie A e Tess è una squadra che vuole conquistarsi questi tre punti importanti dopo aver iniziato male il campionato per cercare di rimettersi a posto e sì ti rimetti a posto a livello di classifica ma un po' un po' così non fatico essere pienamente contento stasera lo sono per il risultato ribadisco ora anche pronto a una prestazione non di assoluto livello ma forse una prestazione di così basso livello non me l'aspettavo forse ero un po' più illuso anche io non lo so mi ha un po' di illuso perché se poi stasera non porti a casa i tre punti probabilmente alla fine devi venire a dirti me lo sono meritato perché non l'ho chiusa non l'ho aggredita non l'ho attaccata sta partita non l'ho giocata immaginandomi di potergli far male a loro che sicuramente sono in difficoltà quindi il gol di Ken secondo me stasera ci va bene ci va molto bene per quello che abbiamo dimostrato in campo e per quelle che sono le occasioni pulite che abbiamo creato cioè poche voto 6 Miretti subentrati Miretti Paredes Edimaria si beccano 6 tranne Alexandro che si becca invece 4 in pagella ha concluso lo suo 2022 con la Juventus ora si preparerà per il mondiale si allenerà la continassa insieme a Bremer a Danilo e a tutti i suoi compagni del Brasile che si alleneranno appunto la continassa Alexandro che era già stato ammonito viene espulso intervento giusto devo dire perché comunque l'avversario stava andando via l'ha letta un po' male secondo me quella palla perché doveva scappare indietro un po' prima si era un po' addormentato diciamo così entrare non è mai facile soprattutto come difensore è sempre siccome il cambio di difensore è un cambio un po' pericoloso però Alexandro doveva scappare un po' prima si è addormentato era già munito è stato bravo a prendere il secondo giallo e a non far tirare in porta l'avversario però ovviamente da questo passa anche la valutazione ha giocato 6 minuti 7 minuti ha preso due gialli che altro li possiamo dare se non 4 e quindi niente ragazzi questa è un po' l'analisi dei singoli delle prestazioni dei singoli domani cercheremo di analizzare anche in generale la partita è la Superna Juventus fatemi sapere se siete d'accordo con le pagelle se secondo voi c'era qualche voto in più da cambiare o in meno lasciate un mi piace a questo video il commento con la vostra opinione la vostra lettura della partita e andatevi a vedere il post partita che è già online sul numero 10 un abbraccio buona serata ragazzi